proviamo ora a togliere questo teschetto da qui su questo dovremmo fare un pochino più di attenzione perché è molto sottile in alcuni punti però se vedete questo lo rotto se facciamo attenzione se avessi fatto attenzione sarei riuscita a toglierlo ma non sono non sono riusciti così è veramente tremendo però adesso questo video lo rigiriamo